Mi trovo presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucane in occasione della cerimonia di inaugurazione di Natale a San Luca, seconda edizione dove sono presenti diverse associazioni che animeranno in questo lungo mese, da oggi fino al 6 gennaio, i vari reparti dell'ospedale con tante iniziative per dare un sollievo a tutti gli ospiti del San Luca che in questo mese, mese di festa, per vari motivi sono costretti a soggiornare appunto qui. Dio che in Cristo ha rivelato la sua gloria, vi conceda di imitarlo con la santità della vita, perché possiate contemplarlo faccia a faccia nella betitudine eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Applausi Grazie a tutti. La bella manifestazione del Natale al San Luca perché è vero che il San Luca è un luogo di dolore ma un sorriso, una carezza, una presenza amica fa sempre piacere a chi purtroppo suo malgrado si trova in ospedale. Allora noi faremo insieme alla misericordia come ogni anno una befana in pediatria, i piccoli bambini della pediatria. Poi il giorno 18 mattina saremo qui nell'atrio per spiegare qual è il servizio che l'Avo svolge, in che cosa consiste la nostra accoglienza. A stare accanto al malato, ascoltare i suoi bisogni e a volte ascoltarne anche il silenzio. Saremo presenti il 23 ma giusto per dare sempre un'informazione. Noi facciamo corsi ogni 15 giorni quindi chiunque voglia, anche solo per curiosità, capire come funziona, vedere come funziona ci può contattare. Allora noi saremo presenti in ospedale il 4 gennaio mattina nel reparto di pediatria insieme ai volontari dell'Avo per regalare dei giochini e altre cose, un momento di gioia ai bambini ricoverati in quelle giornate là. Qui il 23 saremo invitati come già siamo stati invitati nel reparto pediatria ospedale di Valle della Lucania e tutto ciò ci fa onore di partecipare a ogni evento felice come questo qui, di dare quando meno, di fare, dare felicità ai bambini. Io sono Melissa Avolio, sono di Napoli, vi presento la mia equipe di animazione, c'è Roberta Gorga, Suami Di Feo e Deborah Tomeo. Allora noi siamo dei ragazzi che veniamo spesso in ospedale perché ci piace donare sorrisi e gioia. Siamo venuti qui per fare l'inaugurazione e ci sarà anche la giornata dedicata al reparto di chirurgia. Grazie a tutti.